Andiamo ad analizzare l'ereditarietà per questo tipo di esercizio quando si parla di oggetti in Java e di quello che si può fare, cosa non si può fare, cosa va fatto per creare un esercizio che sia corretto Innanzitutto, io l'ho già fatto ma semplicemente per velocità potete vedere che io ho sottolineato, ho evidenziato certe cose e questo è fondamentale durante la lettura di un esercizio quindi analizzando l'ereditarietà e anche altre cose per i prossimi video leggiamo subito e vi faccio vedere in che modo ho sottolineato le parole chiave che stanno nell'esercizio allora, progettare, implementare questa cosa in Java che si vendono telefoni, cellulari, smartphone e tablet, perfetto sistema che permette a gestione di aggiungere e rimuovere quindi queste saranno delle azioni che vengono fatte all'interno del sistema poi determinare quale sia il dispositivo più economico e quello più costoso nell'ordine e la marca più frequente ora, perché ho sottolineato questo in verde? perché si parla di azioni e quindi metodi, detti anche funzioni che stanno in questa interfaccia ma a noi adesso questa cosa non ci interessa perché vogliamo parlare dell'ereditarietà quindi avendo sottolineato qua le classi cellulari, smartphone e tablet che dovremo implementare nel nostro sistema andiamo a leggere la parte inerente a questo allora, per ogni dispositivo, telefono, cellulare, smartphone e tablet è necessario rappresentare il pezzo al pubblico, modello e marca ora, fermiamoci due secondi data questa cosa, già leggiamo che dispositivo comprende sia cellulare, smartphone e tablet significa che in una scala gerarchica abbiamo la classe dispositivo che sta in alto e tutto quanto a cascata, come andremo a vedere poi, in aggiunta, qua è spiegato come fare l'equals tra due dispositivi, perché dice due dispositivi si definiscono uguali se il modello e la marca coincide poi, continuiamo a leggere per smartphone e tablet è necessario memorizzare la dimensione dello schermo ed il tema, ed il tipo di sistema operativo poi, entrambi possono fungere da telefono cellulare perfetto quindi, smartphone e tablet devono contenere queste informazioni ed entrambi possono fungere da telefono cellulare per i tablet bisogna anche rappresentare la dimensione della RAM e della memoria di massa presso in grammi perfetto e qui, a fine esercizio, dice di definire queste classi o dispositivi cellulare, smartphone e tablet però, noi oggi, in questo video, ci occupiamo di dispositivo cellulare, smartphone e tablet perfetto perfetto, avendo analizzato adesso il testo ho creato un grafico piccolino per vedere come funzionano le ereditarietà nel nostro esercizio abbiamo dispositivo, che avrà prezzo, marca e modello come attributi poi, cellulare, che dato il testo non ci sta niente da aggiungere poi, smartphone, con sistema operativo larghezza e altezza insieme a questi tre attributi che sono già stati ereditati e poi abbiamo tablet contenente tre ulteriori attributi che sono RAM, disco e peso questo, diciamo, è la scaletta di come bisognerebbe implementare i file nel nostro esercizio quindi andiamo subito ad analizzare dispositivo eccoci qua dispositivo vediamo subito che è una classe abstract perché non può esistere alcun oggetto che sia di tipo dispositivo perché? perché ci troviamo come, diciamo, è una classe padre e quindi vogliamo che vendano utilizzati questi attributi da altre classi che ereditano da dispositivo e quindi dispositivo, diciamo, sarebbe troppe poche informazioni per considerarlo e quindi si mette ad abstract perfetto abbiamo il classico costruttore mettendo prezzo, marca e modello si mette tutto a this e qua ci siamo poi abbiamo il get lo commento così ce l'abbiamo questo è necessario queste tre funzioni ognuna relativa agli attributi di dispositivo quindi abbiamo get prezzo get mark e get modello sebbene non sia, diciamo, messo il get scritto non importa è una scelta stilistica e poi analizziamo un attimo l'equals l'equals secondo il testo leggiamo subito due dispositivi si definiscono uguali se e solo se modello e marca coincidono quindi a differenza di fare, per esempio l'uguaglianza tra due variabili che ne so, int per esempio a uguale a b qua è necessario entrare e fare l'uguaglianza profonda che cosa significa l'uguaglianza profonda? praticamente bisogna andare ad analizzare le primitive di un oggetto quindi in questo caso le primitive in questione sono modello e marca andiamo subito a vedere allora innanzitutto bisogna controllare che l'oggetto in questione sia un'istanza di dispositivo che cosa significa? che sia derivato da dispositivo quindi potrebbe essere un cellulare uno smartphone un tablet poi allora creiamo un oggetto di tipo di dispositivo che sia oh ma questa è una cosa stilistica e alla fine bisogna fare l'uguaglianza che modello punto equals modello di di e questo perché modello è qui il una stringa in realtà questo è scritto molto breve perché dovrebbe essere dis punto modello uguale scusate no equals perché stiamo parlando di stringhe di punto modello di questo tipo lasciamo perdere che è sottolineato ma è questo il senso questo qui ho messo un dis praticamente quando noi si parla di 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 classi quali string per esempio vedete qua string o marca perché marca qua vuole farlo come un 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 oggetto si va a fare in questo modo in ogni caso affronterò l'equals l'uguaglianza profonda tra due oggetti in un secondo video in modo che sarà più chiaro andiamo avanti andiamo a guardare subito cellulare che era secondo la nostra catena la seconda classe come potete vedere non ci sta niente ci sta solamente il costruttore che prende riferimento super super significa che prende il costruttore della classe da cui è derivata infatti vediamo che cellulare extends dispositivo questo significa che il cellulare prende tutte le informazioni funzioni e quant'altro del dispositivo andiamo avanti controlliamo smartphone smartphone prende da cellulare infatti smartphone extends cellulare e ci stanno queste tre nuove variabili perché dico tre perché public enum so sistema operativo non è altro che una classe all'interno di una classe in cui si può solamente avere questi tre valori windows android e ios quindi abbiamo queste tre variabili andiamo a controllare il costruttore cosa importantissima ora come potete vedere il costruttore contiene più variabili perché? perché contiene le tre prime tre variabili che erano presenti in dispositivo guardiamo subito public dispositivo ed erano queste e poi le tre nuove variabili o primitive che sono state messe per la classe ovvero larghezza altezza sistema operativo quindi si va a chiamare super ovvero il costruttore della classe da cui è derivata in questo caso cellulare e infatti è supportata e poi le altre tre variabili distanza che erano rimaste allo stesso modo qua c'è il get ora mi sto per rivedere però lo facciamo per coerenza andiamo a vedere tablet estende smartphone e quindi conterrà nel costruttore le prime sei quindi sistema operativo e tutto guardate ram disco e peso esattamente perché qua sono state create altre tre variabili e poi il get di tutte quante queste qua commentiamo di nuovo così si vede queste sono le get perché come abbiamo detto prima sono private ecco ragazzi non ci vuole niente a scrivere queste classi in modo semplice chiaramente poi altri algoritmi per esempio leggiamo per esempio economico costoso bisogna affrontarle in modo diverso ma la struttura degli oggetti con tutte le derivazioni tra classi è molto semplice io lascerò il codice all'interno di un link pastebin ovviamente non farò tutti i file diversi per comodità però li dividerò e se volete provarli con il vostro codice vi create un file per ogni classe in aggiunta vi dico che ho creato un canale telegram in modo che potete controllare quando escono nuovi video e così ho un contatto più diretto e niente ci vediamo al prossimo video spero che sia stato chiaro grazie ciao ciao